Ma quanto è bella lei! Lei! Sto tappo! Aspetta un attimo, aspetta! Che vorresti di far meglio? Ma perché c'hai i leggings, hai capito? Se mette il top è bella perché vogliamo parlare di me e ora parliamo si chiara, ma va bene tutto ma ora è bella lei! Ma no, aspetta! Perché questo si crede essere bello! Cioè, non so di niente! Ma perché lei sa chitta, io devo essere... Cioè, vabbè, vabbè!